L'Egambiente organizza feste tematiche in varie parti d'Italia e Taranto sicuramente è un caso emblematico in Italia di necessità di riconvertire lo sviluppo. Si parte da quella che è la situazione drammatica di carattere occupazionale, di sconoscimento delle risorse reali di un territorio per andare a pensare in maniera diversa lo sviluppo e dare anche una risposta all'occupazione oggi nel sud. Quindi Taranto si pone in Italia nel sud come una città molto emblematica, quindi il particolare significato e l'importanza di questa festa sta proprio qui, cercare nuove strade, indicare nuove strade, dare segnali di ottimismo a questa città, al territorio ma alla nostra nazione. L'organizzazione di questa festa? Beh, diciamo che è stata una scommessa, adesso vedremo come andrà, naturalmente ci auguriamo che vada bene, che il tempo ci accompagni perché noi siamo un'associazione di volontariato che non ha personale assunto e quindi tutta l'organizzazione è a carico dei volontari. E si pone tra l'altro a conclusione di un workshop che abbiamo organizzato e che è in corso anche in questo momento con il Comitato Imprenditorial Sociale della Camera di Commercio, un workshop dedicato ai giovani, destinato ai giovani, che abbiamo intitolato Imparare ad intraprendere. Quindi abbiamo voluto promuovere comunque una discussione e anche, speriamo, delle proposte sul lavoro, sul lavoro che può esserci in questa città, sul lavoro che segna un cambio di passo ovviamente dal punto di vista dell'ambiente.